Death Stranding 2, l'uscita potrebbe essere ancora lontana. Novità di nuovo per quanto riguarda l'acquisizione a sto giro hanno detto la loro i sindacati, la cosa potrebbe sorprendere qualcuno che cosa abbiano effettivamente detto, ma soprattutto Tom Brider c'è una notizia abbastanza importante che riguarda Amazon. Come mai? Adesso ne parliamo, quindi questo è altro nella puntata di oggi. Ben trovati su Crystal News, gente un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questi episodi su YouTube oppure sul podcast. Allora ragazzi, un franchise piuttosto famoso anche se non famoso come una volta, però il franchise di Tom Brider è ancora abbastanza amato. Solo che dopo il passaggio da Square Enix effettivamente ci sono tante domande su che cosa ne sarà del nuovo franchise. Verrà confermato? Pare di sì perché Embracer sembrava ben intenzionata. Bene, ma ci sono delle novità molto importanti che mi sa tanto che sono diciamo l'antipasto di un qualcosa di bello grosso che sta per arrivare. Tom Brider, clamoroso Amazon Games, pubblicherà il nuovo gioco in Unreal Engine 5 e avrà il budget più alto di sempre. Nuovo gioco sarà single player e multi piattaforma. A sorpresa, Amazon Games e Crystal Dynamics annunciano una collaborazione per lo sviluppo e la pubblicazione di un nuovo videogioco next gen di Tom Brider, realizzato in Unreal Engine 5 con il budget più alto di sempre per il franchise. I diritti della serie, lanciati nel 1996 con il primo Tom Brider, erano stati acquisiti nel 2009 da Square Enix e recentemente passati nelle mani di Embracer Group dopo l'acquisizione degli studi occidentali dell'azienda giapponese. Incredibilmente, Amazon è riuscita a trovare un accordo per la pubblicazione e promette un'esperienza senza precedenti. Stando a quanto dichiarato solo pochi istanti fa, il nuovo gioco di Tom Brider è in sviluppo con il motore grafico Unreal Engine 5 di Epic Games e al momento non ha ancora un titolo ufficiale. Amazon Games e Crystal Dynamics confermano che si tratterà un videogioco action-adventure per giocatore singolo, senza multiplayer, con una forte componente narrativa e una Lara Croft multidimensionale, confidente in controllo di se stessa, chiamata a esplorare un'ambientazione che premierà la creatività e la capacità di puzzle-solving dei giocatori, con tanti tipi di nemici e diverse vie da percorrere. La nuova avventura sarà la più grande e costosa vista finora e anche la migliore della serie, secondo Amazon Games. Sempre virgolettato, Tom Brider è una dell'EP più amata nella storia dei videogiochi, Amazon Games è intenzionata a continuare a portare ai giocatori le migliori esperienze, create ai migliori team su tutte le piattaforme possibili. Il gioco si conferma in sostanza che il gioco arriverà sicuramente su PS5, Series XS e PC. Il leader di Crystal Dynamics ha aggiunto, il nostro studio è una grande opportunità per ridefinire la saga di Tom Brider. Con Amazon Games abbiamo messo in piedi un team con una visione creativa, ambizioni e valori che espandono enormemente l'ospetto delle nostre possibilità. Siamo felici di poter lavorare su questo progetto insieme e di poter costruire il miglior Tom Brider di sempre. E qui c'è il tweet originale perché in sostanza si parla di un gioco molto costoso, considerando che Shadow of the Tom Brider, l'ultimo gioco realizzato a Square Enix, è costato tra 110-135 milioni di dollari al settimo post nella classifica dei videogiochi più costosi mai creati. Molto interessante. E lo studio ha promesso nuove informazioni nel 2023. Allora ragazzi, questa è una svolta effettivamente molto figa perché mostra una commissione di cose che effettivamente non mi aspettavo. Però non deve sorprenderci particolarmente una volta che l'abbiamo un po' contestualizzato. Ovvero, per come l'ho letta io è, Tom Brider è un franchise molto amato, riconoscibile che i giocatori conoscono, non ha lo stesso appeal che aveva una volta, però insomma è una vecchia gloria, perciò tutti sanno che cos'è. Crystal Dynamics adesso ha voglia di tirare fuori altri prodotti con Tom Brider, però per fare concorrenza, parliamoci chiaro, la concorrenza sono gli action-adventure di Sony, ok? Perché il metro di paragone sarà chiaramente questo, o comunque prodotti del genere, evidentemente non hanno le risorse necessarie. E qui che interviene Amazon, con tante risorse a disposizione, quindi tanto denaro, poco know-how, però tanti soldi, il che vuol dire che è un'occasione per Amazon di entrare in un franchise molto importante, collaborare con una realtà già affermata, con un brand storico che ha il know-how, ma ha bisogno di più spinta e più risorse, e quindi è per Amazon l'occasione di entrare nel mondo di videogiochi da una porta differente che è già stata aperta praticamente e ci entra puramente con il denaro e con parte dei loro team, con altre cose però. Quindi questa commissione darà il via a uno dei giochi più costosi di sempre e a quanto pare un gioco che vuole settare una certa barra di qualità. Molto interessante tutto questo perché francamente mi viene in mente che sia quello che serve a Tomb Raider per offrire ancora qualcosa, perché parliamoci chiaro, all'epoca Tomb Raider era esattamente quello, era il top praticamente che ci si poteva aspettare all'epoca per gli action-adventure puzzle game, col tempo è cambiato tantissimo ma se vuole offrire qualcosa ragazzi o fai un prodotto di qualità simile ai famosi action-adventure di Sony oppure temo che tu non abbia molta scelta se vuoi proprio l'esperienza cinematica e un prodotto ambizioso. Questo è quello che penso ragazzi, fatemi sapere la vostra. Mi sembra quasi di percepire ragazzi che nel vostro cuore sentite come una mancanza, no? E sono assolutamente convinto che questa mancanza consista nel non aver ancora sentito parlare abbastanza dell'acquisizione di Activision Blizzard. Vero? Lo so che la mancanza è proprio questa, no? Vi ho promesso che ve ne parlo solo quando ci sono cose importanti, ormai abbiamo parlato fino alla nausea di praticamente ogni cosa anche con approfondimenti dedicati ma una novità c'è perché tra tutte, ormai si è pronunciato praticamente chiunque su questa acquisizione, mancavano un po' di persone tra cui i sindacati che probabilmente hanno una posizione che potrebbe sorprendere qualcuno. Activision, ex Microsoft i sindacati USA vogliono l'acquisizione, critiche alla FTC. Continua ad alternarsi le presi posizioni relative al completamento dell'acquisizione. L'American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations che rappresenta il più grande consorzio sindacale degli Stati Uniti con all'attivo oltre 55 sindacati aderenti ha infatti deciso di commentare le più recenti evoluzioni della vicenda. Nella persona della presidentessa Liz Schuller l'organizzazione ha definito deludente la decisione a Federal Trade Commission di avviare un tentativo di blocco dell'accordo tra Activision, Blizzard e Microsoft. Quest'ultimo dicono creerebbe un'azienda più forte e proteggerebbe i consumatori attribuendo maggior potere ai lavoratori. Come in ogni acquisizione, vi sono diversi fattori da valutare ma i bisogni dei lavoratori dovrebbero essere tenuti in considerazione. Quando i lavoratori possono unirsi si crea un sistema di controllo all'interno di un'azienda che in definitiva offre un beneficio sia ai consumatori sia al grande pubblico. L'acquisizione proposta da Microsoft darebbe ai lavoratori di Activision, Blizzard la libertà di unirsi in un sindacato autonomo rispetto al datore di lavoro attribuendo loro la capacità di costruire una compagnia migliore e di agire come organo di controllo nei confronti di pratiche aziendali prive di etica. Nel concludere però la FLCIO si dice ottimista sul fatto che il favore riscosso all'operazione persi i sindacati USA la Commissione Europea e gli altri attori riuscirà infine a superare le resistenze della FTC. Allora ragazzi questa è una posizione, c'è da dirlo, un tantinello interessata perché si interessa il benessere dei lavoratori e come è stato detto da più fonti sappiamo benissimo che in caso di mancata acquisizione qualche effetto su Activision, Blizzard sicuramente ci sarà e tra i posti di lavoro che si perderanno e basta per via dei licenziamenti e le persone che semplicemente se ne andranno perché non ritengono più cioè perché ritengono che ci siano posti di lavoro più promettenti per il loro livello di qualifica chi lavora in Activision Blizzard ha un livello di qualifica molto alto tra i migliori dell'industria probabilmente saranno abbastanza alte queste perdite e quindi i sindacati vogliono probabilmente proteggere i lavoratori ma c'è un'altra cosa e ha a che vedere con tutto il casino che è successo dentro Activision Blizzard dai tempi della causa se vi ricordate bene uno dei gruppi di lavoratori che stava spingendo per avere un sindacato autonomo ha avuto l'opposizione non proprio definitiva ma una certa avversione da parte di Activision che in sostanza dice ma siete proprio sicuri che il sindacato serva per tutelarvi eccetera eccetera queste menate qui ma mi sono già pronunciato a riguardo Microsoft invece dopo l'acquisizione si è pronunciata e se non mi ricordo male proprio Phil Spencer ha detto che Microsoft non ha nessunissimo problema alla costituzione di un sindacato indipendente autonomo dei lavoratori Activision Blizzard e quindi è ovvio che la confederazione dei sindacati o quello che diavolo è questa cosa qui è ovvio che va a favore di questa cosa qui e quindi se vogliamo questa è una presa di posizione che riguarda strettamente i lavoratori ma d'altronde i sindacati questo fan ed è anche giusto che sia così quindi questo è l'aggiornamento ragazzi però una volta tanto sentiamo parlare di persone di vite vere cose del genere invece di parlare di aziende giganti e di enti pubblici e che per una volta per quanto mi abbia rotto le scatole parlare di questa cosa a sto giro un po' devo dire mi ha fatto piacere ora passiamo alle news a ruota ragazzi e cominciamo proprio con Death Stranding 2 perché potrebbe esserci una sorta di brutta notizia c'è un rumor Norma Redus avrebbe appena iniziato il mocap non è da escludere che il debutto sul mercato di Death Stranding 2 sia in verità ancora piuttosto distante stando a quanto rivelato dallo stesso Kojima e l'ultima puntata del suo podcast Brain Structure pubblicata le scorse ore su Spotify Norma Redus interprete di Sam Porter Bridges avrebbe iniziato soltanto da poco le sessioni motion capture per il suo personaggio segno di come ci sia ancora molto lavoro da fare per dare vita al già atteso seguito di Death Stranding tra gli altri dettagli rivelati il nuovo gioco avrà un feeling nostalgico per i fan del primo gioco ma sarà al tempo stesso accessibile anche da parte dei neofiti non sarà un semplice sequel non può permettere di essere qualcosa di ancora più profondo anche grazie alle nuove tecnologie a disposizione che permetterebbe a Kojima Productions di poter mettere in pratica idee in precedenza impossibili da realizzare questa è una cosa interessante ragazzi perché a dire la verità per come devono utilizzare il motion capture loro non è detto che questo significhi che il gioco sia necessariamente in alto mare capite che cosa intendo? cioè allora se ancora devono fare la motion capture sicuramente il gioco non è non è vicinissimo a essere pronto questo sicuramente sì ci vuole ancora un po' senza alcun dubbio però non è detto che perché uno si potrebbe fare l'idea che cavolo se devono ancora fare la motion capture però per la natura di Death Stranding e anche per la natura di come lavora Kojima a dire la verità non è proprio detto che sia così al 100% quindi diciamo che una speranza c'è però è una notizia che devo darvi perché effettivamente a sto giro è stato proprio Kojima stesso a dire questa cosa la brutta notizia è la speculazione su quello che ha detto d'accordo? però vabbè questa potrebbe anche essere sbagliata dopodiché niente posticipi per Death Space Remake l'horror EA è entrato in fase gold non c'è molto altro da dire ragazzi a quanto pare possiamo essere relativamente sicuri che Death Space Remake uscirà nel giorno prestabilito che è il 27 gennaio 2023 solo su PC, PS5, Xbox Series X e S quindi manca poco più di un mese sostanzialmente poi Blue Protocol abbiamo il titolo di Bandai Namco che arriverà prima su PC forse con il crossplay stando alle informazioni irrepelibili a partire alle ultime novità riportate in dato odierna 15 dicembre quindi nel momento in cui vedete il video è ieri sembra che ci siano parecchie novità positive all'orizzonte per la versione PC del titolo il free to play in questione uscirà nel corso alla seconda metà dell'anno che sta per giungere le porte anche se non vi sono informazioni dettagliate sulla data uscita esatta uscirà in Giappone all'inizio della primavera del 2023 segnando così uno stacco temporale in termini di pubblicazione rispetto alle versioni dedicate alle console di ultima generazione PS5, Xbox Series X e S questi ultimi infatti saranno pubblicati in un secondo momento non meglio definito in particolare successivamente alla conclusione della fase di beta testing su PC una volta terminata la fase raccolta dei feedback dell'utenza Blue Protocol verrà reso disponibile su PC in Giappone ma potrebbero esserci ulteriori sorprese per coloro i quali attendono con trepidante attesa a nuova pubblicazione Blue Protocol potrebbe ricevere un pieno supporto al crossplay permettendo così a chiunque poter giocare con altri utenti possessori di console appartenenti a un ecosistema differente quella del crossplay è una volontà del team dietro alla creazione del progetto e però questa funzione non è detto che esca adesso è da una parte una buona notizia da una parte una notizia che potrebbe far storcere in naso a qualcuno perché noi in occidente non siamo tanto abituati a questa cosa qui in oriente invece è abbastanza comune che possa accadere che un titolo esca principalmente in Giappone oppure in Corea oppure in qualche altro paese di quelli e solo dopo venga pubblicata una versione per il mercato occidentale principalmente per due ragioni uno perché spesso sono giochi multiplayer che hanno bisogno di cioè che loro spesso decidono di farlo uscire soltanto su una pool di utenti diciamo di base per monetizzare più di tutti con l'utenza a loro preferita perché parliamoci chiaro Blue Protocol spopolerà in Giappone se dovesse spopolare prima di qualunque altra cosa e probabilmente anche in Corea però ci siamo capiti hanno modo di verificare le cose come funzionano e poi hanno modo di adattare un po' il gioco al mercato occidentale vi ricordate cosa è successo con Lost Ark? ecco non mi aspetto che Blue Protocol abbia lo stesso tipo di stacco forte rispetto alla versione coreana di Lost Ark però qualche differenza potrebbe esserci e quindi insomma io penso che siano un misto di brutte e buone notizie questa qui comunque sia nel corso del 2023 dovremo saperne di più infine si parla ma sono notizie effettivamente per ora molto preliminari Steam Deck Gen 2 e Steam Controller 2 Valve delinea la propria strategia si parla di una seconda generazione di Steam Deck e anche riportare in auge gli Steam Controller stando a quanto sostenuto a Griffice la strategia multigenerazionale portata avanti da Valve con Steam Deck non si rifletterà nella progettazione di una rumoreggiata versione Pro o Next bensì una progressiva revisione hardware incentrata sulle funzionalità prima ancora che sulle prestazioni o la mera potenza di elaborazione e dice in questo momento per noi di Valve è davvero importante i videogiochi compatibili con Steam Deck offrano lo stesso livello di prestazioni su tutti i modelli della console riteniamo che sia un valore aggiunto avere queste specifiche uniche per questo penso che manteremo questo livello di prestazioni un po' più a lungo per poi innalzare quel livello solo quando ci sarà un guadagno significativo nelle prestazioni è il ragionamento di una console pari pari e poi dice è nostra intenzione realizzare una nuova versione di Steam Controller c'è solo a capire come e quando in questo momento ci concentriamo sul Deck ma un po' come la questione delle microconsole Steam lo sviluppo di un nuovo Steam Controller è una idea interessante saremmo entusiasti di lavorare con le terze parti e esplorare le stesse soluzioni per concretizzare questa visione beh ragazzi sono due cose molto separate ma in realtà sono accumulati da una cosa Valve cerca di essere innovativa dove si muove e non si arrende fino a quando non l'ha spuntata scusate e se lascia perdere proprio perché veramente non c'è modo di fare altrimenti Steam Deck ragazzi è la versione portatile di un qualcosa che in realtà è stato tentato più volte ancora e ancora le cosiddette Steam Box o Steam Machine da mettere in salotto e da usare come console ma console non sono perciò alla fine hanno sempre più o meno beh fallito forse è la parola giusta ok stessa cosa per lo Steam Controller bellissima idea ma la facilità di utilizzo era proprio l'ultima cosa di quel controller io l'ho visto non ce l'ho mai avuto ma l'ho provato è troppo complicato ci sono mille cose da utilizzare e il controller che è il contrario dell'intuitività offre tantissime opzioni e ci sono alcuni che lo adorano ma non va bene quindi Valve sta ridefinendo questa cosa con il deck pare che ci stia riuscendo e sta ragionando da console proprio da console perché le console ragionano così nuove funzionalità nuove possibilità solo dopo nuove prestazioni quando c'è uno scarto molto importante perché vogliono che i progetti cioè i giochi siano ottimizzati per quella piattaforma lì ma guarda che casualità eh e per lo Steam Controller l'hanno capito che hanno cannato la prima volta e devono ripensarlo e poi ragazzi abbiamo delle novità per i problemi tecnici su PC di The Witcher 3 proprio da CD Projekt Red è stata subito messa al corrente la situazione confermando in un messaggio su tutti i test che è già al lavoro e lo studio porra l'acqua ha rivelato uno specifico su quali problemi sta attivamente investigando crash della versione PC giocatori origin che non riescono ad effettuare l'update della nuova versione problemi nelle performance del ray tracing sulle GPU Intel poi problemi di stuttering oltre a che dice fenomeni di pop-in per il ray tracing le cose le stanno affrontando un po' alla volta c'è anche qualcosa riferito alla versione PS5 ma questo molto minore spero davvero che lo facciano l'ho solo citata questa cosa perché ne abbiamo parlato già però sì la versione PC di The Witcher 3 next gen a quanto pare ha dei problemi perché è già arrivata una comunicazione e il fatto che li stiano cercando di risolvere tempestivamente è una buona cosa sarebbe stato ancora meglio non averli affatto però sappiamo come vanno queste cose e infine ragazzi a quanto pare c'è una conferma di quello che dicevamo ovvero Marvel Spider-Man 2 Insomnia Games conferma l'uscita nel prossimo autunno dopo che era venuta fuori dai rumor degli scorsi giorni per via di quella sceneggiatrice che praticamente se l'ha lasciato scappare arriva la conferma ufficiale Insomnia Games Marvel Spider-Man 2 durante il prossimo autunno ed è proprio il creative director Brian Intiar a confermarlo sulle pagine del blog ufficiale di Playstation e non c'è molto da dire ragazzi perché abbiamo già detto tutto quando abbiamo parlato del rumor e adesso a sto giro è solo la conferma ci avevamo visto giusto era effettivamente una informazione che la sceneggiatrice non doveva dare ma gli è scappata insomma succede quindi ragazzi prepariamoci prossimo autunno torniamo con il nostro caro ragnetto e probabilmente non da solo e non vedo l'ora perché il gioco l'ho adorato Bene gente è tutto per le news di oggi grazie mille per aver visto questo episodio noi ci vediamo al prossimo e come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al secondo canale seguitemi su Twitch lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon Instant Gaming e i link a Patreon per supportare il mio lavoro e il format delle news e infine anche il link alla playlist con tutte quante le crystal news che come sapete escono ogni giorno alle 7 su YouTube e sul podcast a domani ragazzi